Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua, bentornati. Oggi iniziamo una nuova serie che abbiamo già fatto lo scorso anno, che è andata molto bene e che voglio riproporvi, perché i protagonisti siete voi, voi siete assolutamente i protagonisti, dato che vi vado a fare delle domande su Instagram con dei sondaggi e cerchiamo di costruire la Juventus dell'anno prossimo andando a confermare oppure a non confermare tutti i protagonisti di questa stagione in base al merito. Quindi ho fatto i primi sondaggi, avete risposto in tantissimi, di questo sono assolutamente soddisfatto ed eccoci qua con la prima parte. Quindi questa prima parte deve essere riempita di mi piace, dovete andare qui sotto in descrizione a cercare il mio profilo Instagram per partecipare anche ai prossimi sondaggi, dato che potrete essere voi i protagonisti e ci saranno dei commenti che mi avete lasciato in evidenza a questo video. Quindi se siete tutti pronti iniziamo subito, prima però scaricate OneFootball. Il link è qui sotto in descrizione per scaricare l'applicazione che vi terrà compagnia durante questo calciomercato, questo finale di stagione per cercare di capire un po' la Juventus, che cosa farà l'anno prossimo, no? Dato che mentre che sto registrando è mezzogiorno, alle 18 giochiamo contro l'Inter, magari voi questo video lo vedrete dopo, però in questo momento si è ancora un po' tutti incerti lato mercato e OneFootball vi potrà sicuramente aiutare. Direi di avervi detto tutto e quindi iniziamo. Il primo che andiamo a prendere in considerazione, in esame, è il nostro allenatore. Diciamo che siete abbastanza allineati sul cambiare allenatore. Sapete, ne abbiamo parlato tantissimo in questi mesi. Io sono dispiaciutissimo da vedere una percentuale così alta, però credo che sia abbastanza palese, abbastanza giusto cercare di immaginarsi una Juventus senza Pirlo. 81% li vendiamo, 19% li teniamo, anche se il messaggio che voglio passarvi è che io vedo fin troppe persone contente del fatto che si cambierà allenatore. Io sono umanamente dispiaciuto per Pirlo, sono dispiaciuto per la Juve perché bisognerà ricominciare ancora una volta dall'inizio, quindi non è una buona cosa cambiare. E vedo tante persone che stanno odiando anche Andrea Pirlo e non mi piace. Questa cosa, devo essere sincero, non mi piace. 10.000 sono per il vendiamo e soltanto 2.368 per il teniamo. Salvo Castiglia ha fatto il commento più bello in assoluto, secondo me. Non era il suo momento. Non era il suo momento perché tante persone ora stanno dicendo che Pirlo è inadatto a far allenatore e che per sempre sarebbe adatto a far allenatore. No, purtroppo in questo momento appunto non era adatto ad allenare la Juventus e spero che in futuro possa fare una buona carriera, ma in questo momento alla Juventus non serve Pirlo e forse a Pirlo non serve la Juventus e a fine stagione la cosa migliore per tutti sarà separare le strade e cercare di, la Juve, prendere un allenatore più esperto e più adatto a quella che è la Juventus e a Pirlo prendere una squadra un po' più facile da gestire per farsi le ossa, anche se questo primo anno di allenatore per Pirlo sicuramente la Juve sarà pesante e varrà come 2, 3, 4, 5 anni da qualche altra parte. Passiamo ai portieri. Scesni vendiamo o teniamo? 58% di vendiamo, 42% di teniamo. Allora, sono abbastanza, non dico sorpreso, ma credo che sia normale vedere una percentuale di indecisione così alta perché si sta parlando di Donnarumma. Quindi se c'è la possibilità di andare a prendere un portiere più giovane, a zero, italiano, che potrebbe essere davvero l'erede disegnato di Gigi Buffonio, capisco le persone che vogliono vendere Scesni. Il problema è, arriveremo a prendere Donnarumma? Sarà possibile prendere Donnarumma? Ma non dimentichiamoci che la Juventus non è che può andare a prendere Donnarumma con ancora Scesni in rosa o senza l'idea certa di darvi a Scesni. Bisognerà anche capire se riusciremo a qualificarci alla Champions oppure no. Poi ci sono delle idee che per giocatori come The Elite, Donnarumma, insomma ragazzi giovani un anno di non Champions non sarà un disastro. Quindi potrebbe arrivare Donnarumma anche in caso di Europa League per la Juve con l'idea ovviamente di tornare in Champions, tornare a fare un ciclo vincente come quello che abbiamo visto, non dico di nove anni, ma tornare a lottare per le primissime posizioni. Discorso diverso per Ronaldo che è un giocatore che ha pochissimi anni davanti a sé e quindi capisco che in caso di Europa League potrebbe prendere in considerazione altre mete e altre destinazioni. Quindi non sono sorpreso di vedere questa cosa. Io sono dell'idea che Scesni sia un buonissimo portiere, non dico fenomenale, non dico però io sono abbastanza soddisfatto di Scesni. Dovesse arrivare un motivo per cambiarlo, ok, ma secondo me la porta della Juve non è una priorità, ci sono tantissimi altri problemi. 7.514 vendiamo, 5.512 teniamo. Ripeto, sono abbastanza di questa idea e non sono sorpreso. Gianluigi Buffon doveva continuare oppure ha scelto bene? Beh, dopo Sassuolo forse doveva continuare, però capisco la percentuale di ha scelto bene, sono anche dell'idea che la Juventus debba iniziare ad andare oltre certi giocatori che ci sono sempre stati. Ho fatto un video su Buffon, quindi non starò qua a parlare di Buffon. Poi è una scelta personale, una scelta tutta sua, di carriera, detto che ci ha pensato sopra. Era mesi che aveva comunicato alla Juventus questa sua intenzione. Vi lascio nelle schede il video in cui parlo di Buffon e nel mentre che parlo di Buffon inizio anche un po' a commuovermi perché Gianluigi Buffon è qualcosa in più, però vi posso far vedere. Mi è arrivata ieri, eccola qua, ho fatto vedere anche su Instagram appunto. Ho comprato la maglia di Gigione, c'è ancora il cartellino appena arrivata dallo store, tra l'altro ho preso anche questa maglia dallo store, questa è la J di Juventus. Non ho fatto l'unboxing, ve le faccio vedere tutte e ho preso anche questa. Quindi ho deciso di fare qualche acquisto nel mentre che andavo a prendere la maglia di Super Gigi. Eccola qua, l'ultima maglia di Buffon. Un bacione a Gigi che è esattamente quella che state vedendo in questo momento. 4541 doveva continuare, 8648 ha scelto bene. Probabilmente ha scelto bene e ha fatto bene alla Juventus. Pinsoglio vendiamo o teniamo? Non c'è discussione. Qua veramente per la prima volta, dopo Pirlo ovviamente per i giocatori, siamo con un plebiscito, ok? Teniamo Carlo Pinsoglio, ero proprio il capitano della Juventus. Questa roba mi fa riderissimo. 1992 il mio anno di nascita vendiamo, 11306 teniamo. Ragazzi stiamo scherzando, proprio Carletto non si tocca per la tifosieria, anche se so che in realtà si sta un po' lavorando anche su Pinsoglio. Vedremo se ci saranno novità. Terzo portiere, c'è poco da aggiungere su questa cosa qua. Terzo portiere della Juventus e ovviamente non è che cambia tanto a livello di caratteristiche di squadra. Uomo spogliatoio, questo dobbiamo dirlo. C'è poco da parlare su Carlo Pinsoglio. Giusta la scelta di Gigi, al suo posto mi trarrei Perin come secondo e richiamerei Eudeuro, ok? Per Pinsoglio. Voi c'è che non è un brutto portiere, ma a mercato è giusto che vada. Con Don Rumo al suo posto si fa un upgrade notevole tecnico, anagrafico ed economico. Giampiero ha detto tutto e Maione dice Buffon è ancora numero uno, Chesni stavano deciso di far schifo. Io non sono dell'idea che abbia fatto schifo Scesni. Buffon veramente, quelle poche volte che è stato chiamato in causa, ha fatto benissimo e ci sta tenendo ancora vivi nella corsa Champions con il rigore parato a Berardi. Quindi tanta roba di aggiungere. I centrali difensivi. Vendiamo o teniamo Giorgio Chiellini? 57% li vendiamo, 43% li teniamo. Allora, io sono dell'idea che Giorgio non sia più il giocatore di una volta, abbia bisogno in questo momento, avrà bisogno probabilmente di capire cosa vuol fare, se ritirarsi, se andrà avanti, se essere ancora un calciatore, se no. E più che altro la Juventus dovrà capire quanto impatta Chiellini all'interno della nostra rosa, perché tutte le volte che Giorgio è stato a disposizione, non ultima contro il Milan, quindi un big match, è stato titolare. Io non sono dell'idea che Chiellini possa essere un titolare di questa Juve per un discorso di continuità fisica. Bisogna iniziare a guardare oltre, come abbiamo detto per Buffon. Poi, se Chiellini vuol fare un ultimo anno, come quarto, quinto centrale, un po' come Buffon è stato il secondo portiere, allora va bene, ma credo che la Juventus debba veramente entrare nell'idea che Giorgio Chiellini deve essere chiamato in causa solo in caso di necessità. Perché è difficile a questa età, è difficile dopo un infortunio come quello dell'anno scorso, è difficile soprattutto se vuoi dare un certo tipo di impronta alla squadra. Ovvio che Cristiano Ronaldo è vecchio, ok, per quelli che sono i standard del calcio, ma ancora un fisico, una concentrazione, una cattiveria, una fama agonistica che è diversa e sostanzialmente è campione anche in quello. Per Giorgio penso che sia arrivato il momento di farsi da parte. Ripeto, accetterei volentierissimo un altro anno di Chiellini, però penso che non ci siano più i presupposti per farlo rimanere come giocatore effettivo la Juventus. 7626 vendiamo, 5845 teniamo. Dipende molto dal ruolo che avrà, dall'impatto che avrà nelle scelte societarie, nelle scelte di gerarchia e livello difensivo. Bonucci, 62%, vendiamo, 38% otteniamo. Discorso simile a quello di Chiellini, non identico, perché credo che Bonucci abbia ancora delle carte da giocarsi. Certo è che in quest'anno abbiamo visto tanti limiti di Bonucci che magari l'anno scorso sembravano allontanati, invece anche Leonardo sta invecchiando, sta invecchiando male. Credo che possa essere ancora il secondo barra terzo centrale della Juventus, ma che sia necessario già iniziare ad avere un titolare al fianco di Delit diverso da Bonucci, perché è giusto dare spazio ai giovani, soprattutto in un momento in cui l'Avventus vuole cercare di guardare avanti. Mi va bene che Bonucci possa essere il terzo difensore, non so se sarà Demiral, questo devo dirvelo tranquillamente, però è ora di iniziare a ragionare con Delit che è titolare e di fianco a Delit un altro ragazzo, o comunque intorno ai 28-30 anni, magari non vecchissimo, però bisogna trovare una coppia difensiva affidabile, certa, con un giocatore come Bonucci che può essere una buonissima alternativa. Ma è già ora di fare un passo avanti anche a Bonucci, smantellare la BBC, Barzagli si è ritirato, Buffon se ne andrà, Chiellini non lo sappiamo, Bonucci è l'ultimo perno difensivo anche per ragioni anagrafiche, però bisogna iniziare a fare un passo anche oltre a Leonardo Bonucci. 8.395 vendiamo, 5.188 teniamo. Quindi anch'io sono per il teniamo, a patto che a livello gerarchico Ving è definito che non è un titolare, poi bisognerà vedere anche se lui e Chiellini saranno disposti ad accettare questi ruoli, però questo è quello che ci ha fatto vedere questa stagione. 94% di teniamo, 6% rivendiamo. Non c'è niente da dire, ne ho parlato ieri di Delit, anche in questo caso video qui sopra nelle schede, la mia paura è che ci sia l'obbligo di cessione da parte di Raiolo o della società, da parte sua penso che non ci siano dubbi lui vorrà rimanere a Juventus e io lo amo, penso di essermi follemente innamorato di Matthijs Delit, ho avuto anche la fortuna di conoscere, l'ho incontrato tre volte, super super disponibile, super super divertente e fenomenale in campo, quindi tanta tanta roba. Playbiscito anche da parte vostra, credo che a mani basse sia il giocatore più incedibile di questa Juventus. 850 vendiamo, che saranno sicuramente tutti gli interisti, i milanisti, i napoletani, i fiorentini, i romani, i laziali, tutti quelli che tipano altre squadre, che visitano il mio profilo, 12.900 teniamo, credo che sia assolutamente la folla in delirio per Matthijs Delit. 19% di vendiamo, 81% di teniamo, anche in questo caso siete ben indirizzati verso la permanenza di De Miral con la maglia della Juventus. Allora, bisognerà fare questo discorso, è De Miral il giocatore che secondo la Juventus può essere il compagno di reparto di Delit? Allora, se sì, benissimo, coppia titolare è quella lì, Bonucci è il terzo, se no, dato che ha mercato De Miral e ci si può ricavare qualcosina che magari potrebbe aiutarci nella permanenza di giocatori come Delit, appunto, allora va bene, cediamo De Miral, però poi andiamo sul mercato, cerchiamo di individuare un giocatore che può essere il titolare di fianco a Delit e mettiamolo lì con Bonucci terzo. Bisogna capire qual è il livello di De Miral, io non sono convintissimo che De Miral possa essere il titolare della Juve, devo essere sincero con voi, devo dirvi la verità, però è anche vero che è ancora molto giovane, ha grandissimi margini di miglioramento e di fianco a Delit potrebbe giovarne pure lui. Io l'ho visto ancora un po' indietro, soprattutto a livello puramente tecnico, penso che abbia da imparare molto a livello di gestione del pallone. Ci può arrivare, ci può riuscire assolutamente, però è ora il momento di dimostrare, perché in un momento così difficile a livello economico la Juventus potrebbe farsi ingolosire dall'accessione di De Miral per andare su un altro profilo di magari più alto livello o più basso livello ma più giovane, senza dimenticarci che in rosa abbiamo Dragosin che è nell'Under 23 ma ha rinnovato e potrebbe essere un giocatore che entrerà nelle gerarchie l'anno prossimo magari proprio al posto di Chiellini con Chiellini che diventa il quinto giocatore. 2563 vendiamo, 11061 teniamo, quindi siete tutti dell'idea di tenerlo, ripeto mi va benissimo anche a me, però allora deve diventare titolare, perché se non diventa titolare allora stiamo tenendo lì un giocatore che non sta crescendo, che vale dei soldi che potranno investire da altre parti e che non stiamo sfruttando. I senatori hanno tradito fisicamente e mentalmente, non so bene come posizionarmi all'interno di una frase del genere, certo è che si poteva far meglio se a livello fisico o se a livello mentale. Il tradimento a livello fisico non è voluto probabilmente, ma nemmeno quello a livello mentale, però può esserci un fondo di verità in questa frase. Tanta roba, ma Chiello forse ora che si faccia la parte, dia spazio a De Miral, che io adoro, Iden Bonucci, che è un po' quello che abbiamo detto. Un solo cambio come i nomi, ma sicuramente un cambio di gerarchie, serve un nuovo centrale fiancara d'elite o responsabilizzare De Miral. Sempass02, grazie mille per aver scritto questi commenti. Voi tutti ragazzi avete il dono della sintesi, lo stiamo vedendo all'interno di queste risposte che mi avete dato su Instagram, io invece devo parlare per spiegare, però avete pienamente ragione. E questi signori erano tutti i nomi che vi avevo fatto in questa prima parte, ma non dimentichiamoci che ci saranno altri due video, nel prossimo terzini centrocampisti e nell'ultimo attaccanti, trequartisti, tutti questi giocatori qua. Quindi non perdetevelo assolutamente, non perdetevi i prossimi video, come al solito in social qui sotto in descrizione, i mi piace a questo video e i commenti, perché magari non avete votato e volete dire comunque la vostra. Ragazzi, buon Juventus Inter, crociamo le dita, speriamo bene e noi ci vediamo nei prossimi video anche di questa tipologia. Ci vediamo stasera intorno alle 20 per il post-partita.